Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti nel quarto esercizio del corso di disegno manga di Marionetta Matta. Allora, come al solito questo esercizio sarà diviso in quattro parti, è un esercizio lunghissimo perché in questo esercizio i partecipanti sono 86, è una classe gigantesca, questa cosa mi fa davvero molto molto piacere. Allora, cominciamo da subito, l'esercizio prevedeva la creazione della prima ioncoma, io vi avevo dato un testo, un copione, vi avevo detto anche come svilupparlo e adesso vediamo insomma il risultato finale. Cominciamo con la ioncoma di Ale Trapp. Allora Ale, cominciamo con vedere se le inquadrature che hai fatto sono corrette, tu nella prima vignetta dovevi fare una figura intera e l'hai fatta, quindi ci siamo. Nella seconda vignetta dovevi fare un piano medio e qui invece non ci siamo perché il... qui ti do una X, perché il piano medio praticamente prevede il disegno che parte appunto dalla cintola in su, invece tu hai fatto praticamente una via di mezzo tra un piano medio e un... scusa, tra un piano americano e un primo piano. Quindi questo te lo metto come errore. Nella terza vignetta dovevi fare un campo lungo e ci siamo, nella quarta vignetta un primo piano e ci siamo alla grande. Allora, andiamo adesso ad analizzare invece la tavola per vedere appunto se funziona. Allora, un errore che ti dico da subito è che nella prima, nella figura intera, quindi nella prima vignetta, avresti dovuto introdurre la storia. Il chi, vi ricordate Kishotenketsu? È il chi, la prima vignetta, deve introdurre non solo i personaggi ma anche l'ambientazione. Tu in questo caso hai introdotto entrambi i personaggi, quindi hai fatto benissimo, però l'ambientazione non l'hai inserita. Perché? Perché hai inserito un ballon proprio qui e che ti ha un po' bloccato la visuale dello sfondo. Invece tu il ballon avresti dovuto inserirlo in un altro punto, magari qui, magari qui, in un altro punto, e qui invece, nella parte posteriore al fraticello, avresti dovuto far vedere il deserto. Per quanto riguarda il piano medio, quindi la seconda, la seconda vignetta, la frase dice non dire così, sono sicuro che dietro a quella duna, ora qui, in teoria, avresti dovuto far vedere la duna. Perché chiaramente il soggetto di questa vignetta è proprio la duna. Quindi il fatto che tu non l'abbia fatta, non l'abbia mostrata, è anche questo, è un particolare che forse dovevi inserire. È vero che nei piani medi si può omettere lo sfondo, però in questo caso, essendoci un soggetto, ovvero la duna, qui dovevi farla vedere. Per il resto invece ci siamo, ed è carinissimo questa cosa che hai fatto, è veramente molto molto carina, con tutte le direzioni, le mille direzioni che non ti fanno capire praticamente nulla. Ti ringrazio Ale, e passiamo al disegno di Rubina Francia. Allora Rubina, vediamo le tue inquadrature. Tu dovevi fare una figura intera qui e l'hai fatta, hai utilizzato anche la prospettiva. È vero che qui hai tagliato un po' i piedi, però come vi ho detto anche nella lezione sulle inquadrature, non bisogna essere fiscalissimi con le inquadrature, ci si può giocare un pochino. E tu l'hai fatto. Nella seconda dovevi fare un piano medio, ma tu non lo hai fatto. Anche qui hai fatto una via di mezzo tra un primo piano e un piano americano. Nella terza dovevi fare un campo lungo e ci siamo, mentre nella quarta il primo piano e ci siamo alla grande. Allora, per quanto riguarda invece la tavola, vediamo se funziona. Anche nel tuo caso hai fatto l'errore di Ale, ovvero qui avresti dovuto introdurre non solo i personaggi, ma anche l'ambientazione, quindi il deserto, e non l'hai fatto. E anche in questo caso stesso errore di Ale, ovvero dovevi far vedere la duna e invece non l'hai mostrata. Non solo questo, ma io ti consiglio, avrebbe funzionato di più se il personaggio maschile, e questa duna in qualche modo la indicava, no? Proprio perché lui sta facendo vedere alla sua fidanzata, alla ragazza in questione, sta facendo vedere appunto questa duna. E quindi ha senso, un movimento, un dinamismo che porta appunto ad indicare la duna. Per il resto ci siamo ed è molto carina questa faccia che hai fatto, veramente molto molto simpatica. Ti ringrazio. Passiamo al disegno di Riku, Riku 594. Allora Riku, vediamo anche per quanto ti riguarda i disegni, vediamo le inquadrature, la figura intera ci siamo, il piano medio anche tu lo hai sbagliato, perché anche tu avete fatto tutti lo stesso errore, insomma avete avvicinato un po' troppo l'inquadratura. Per il campo lungo invece ci siamo alla grande e anche il primo piano. Quindi per questo ok. Vediamo un po' invece se la tavola funziona. Tu invece lo sfondo, lo sfondo me lo hai fatto, eh? Hai fatto praticamente questo sfondo roccioso con questa strada, una specie di strada che va verso l'orizzonte, che va a finire verso l'orizzonte. L'unica cosa che mi sento di dirti è che forse hai sbagliato l'inquadratura, scusa, hai sbagliato la prospettiva, perché se noi andiamo a tracciare le linee di questa strada, vanno a finire praticamente qui all'incirca, mentre tu qui ci hai disegnato già le nuvole. Ok, quindi a meno che qui non c'era praticamente un montarozzone, l'inquadratura, la prospettiva è sbagliata, scusa. Allora, per quanto riguarda il resto, anche qui io avrei indicato con il dito in una posa un po' tridimensionale, avrei indicato la duna e avrei disegnato sempre questa duna che comunque non c'è. Questa vignetta è molto carina, mi piace molto come l'hai strutturata e anche questa zona finale con lui che praticamente è nascosto l'occhio e quindi dà la dimostrazione che si raggela nel vedere appunto che dietro quella duna non c'è assolutamente nulla se non altro deserto. Ti ringrazio. E passiamo al disegno di Giulio Taglietti. Vediamo un po' se hai fatto le inquadrature giuste. Nella prima vignetta dovevi fare la figura intera e ci siamo. Nella seconda vignetta dovevi fare il piano medio e ci siamo quasi perché secondo me questo lo posso accettare perché appunto come dicevamo prima, l'inquadratura ci si può giocare un po', quindi va benissimo, per me questo l'hai fatto bene. Hai fatto bene anche il campo lungo e hai fatto bene il primo piano. Quindi per quanto riguarda le inquadrature le hai azzeccate tutte quante. Complimenti. Andiamo ad analizzare adesso invece un po' nell'insieme la struttura della tua ioncoma. Qui hai disegnato anche lo sfondo, bravo, ottimo. L'unica cosa che mi convince un po' di meno è questa prospettiva perché teoricamente questo ragazzo l'hai fatto più piccolo rispetto alla ragazza. Dimmi in un commento se lui è fisicamente più piccolo ma poi nel caso dovrai farmi questo personaggio più piccolo in tutte le altre vignette o se è un errore di inquadratura perché magari volevi inserirlo come dire un po' più sullo sfondo però in questo caso la prospettiva è un po' sbagliata perché invece questo personaggio dà l'impressione che si trovi in primo piano rispetto a lei. Quindi c'è qualcosa che non torna. Anche qui mi piace il fatto che comunque hai spezzato il balloon in due potevate farlo tranquillamente però come vedi qui hai fatto un disegno frontale e non rende l'idea della duna perché con il volto frontale non si capisce lui che cosa sta guardando. Capisci? Quindi avresti dovuto invece fare uno sguardo rivolto verso la duna stessa e come dicevo prima il dito puntato. Il campo lungo va benissimo e anche questo primo piano insomma anche tu hai fatto il viso oscurato. Grazie. E passiamo ai disegni di Darkai. Allora vediamo la tua Yonkoma. Allora adesso avvicino leggermente le immagini. Tu mi hai fatto la figura intera per quanto riguarda la figura intera ci siamo per quanto riguarda il piano medio invece non ci siamo diciamo quasi quasi forse ti sei avvicinato barra avvicinata dimmi in un commento se sei maschio o femmina perché non riesco a riconoscerti attraverso il nickname forse me l'hai detto in altre volte però mi sono dimenticato perdonami perché comunque sia tu qui hai fatto un'altezza che è più un piano americano che non un piano medio con il campo lungo ci siamo e con il primo piano anche qui ci siamo perché è vero che il primo piano parte dalle spalle però comunque sia ricordiamo sempre il fattore che dobbiamo giocarcela nel primo piano quello che conta insomma è il volto e chiaramente qui il padrone della vignetta è il volto ma andiamo a vedere un po' se la tua Yonkoma funziona tu anche in questo caso mi hai fatto lo sfondo mi hai fatto anche qualche particolare qui nella zona più in vista quindi ci siamo molto carino questo particolare questa cosa insomma hai fatto praticamente questa inquadratura che può sembrare sbagliata ma in realtà secondo me sbagliata non è perché? perché praticamente i personaggi stanno salendo sulla duna e quindi questo particolare è interessante e secondo me è esattamente come bisognava disegnare questa vignetta perché appunto il ragazzo dice guarda che dietro questa duna che stiamo scalando sicuramente ci sarà la città e invece poi una volta che escono al di fuori della duna vedono che c'è altro deserto questo era questo un po' il senso quindi ci siamo l'unica cosa che mi sento di dirti è che questo personaggio il maschietto è un po' troppo statico vedi? mentre lei si vede che sta camminando lui sembra un po' ingessato molto molto fermo e quindi dovresti vedere un attimino questa cosa qui nelle prossime Yonkoma di fare un po' più di dinamismo di movimento fatti qualche esercizio su come si deve disegnare la camminata perché è una cosa che sembra facile ma facile non è vediamo un po' le altre vignette anche qui tu non hai disegnato la duna però hai disegnato il ragazzo che sta indicando la duna qui avresti potuto benissimo uscire con la mano dalla vignetta ci sono questi giochini che comunque funzionano però va bene non l'hai fatto però comunque rende l'idea che lui sta indicando qualcosa e lei è molto scettica mi piace molto questo volto e qui invece appunto c'è il particolare del campo lungo e lui che con la faccia molto da fantasmino appunto dice ok ci siamo sbagliati mi piace molto complimenti e passiamo al disegno di Baka Chan allora andiamo ad analizzare la tua Yonkoma tu qui mi dovevi fare la figura intera e me l'hai fatta di entrambi i personaggi qui dovevi farmi un piano medio e diciamo che anche se i personaggi sono seduti comunque sia ci sta secondo me ci sta perché comunque sia l'inquadratura è leggermente più bassa rispetto alla cintola e ci sta qui dovevi farmi un campo lungo e ci sta e il primo piano anche quindi per quanto riguarda le inquadrature le hai azzeccate tutte quante andiamo a vedere se la Yonkoma funziona allora tu mi hai fatto qui lo sfondo quindi il deserto si vede qui ci sono dei particolari anche dell'ombra brava ottimo lavoro l'unica cosa che mi sento di dirti è che questo balloon forse avresti dovuto farlo qui sopra perché come vedi qua sopra non c'è nulla quindi ti potevi giocare lo spazio vuoto per mettere il balloon e qui invece mostrare ancora meglio appunto il deserto qui il personaggio si mette seduto e indica indica alla ragazza praticamente la duna però questa cosa secondo me non funziona molto bene non ha molto senso perché in realtà lei non dovrebbe vederla la duna e neanche lui perché lui è sicuro che dietro a quella duna c'è qualche cosa ma se ma non lo sa con precisione infatti non avrebbe senso che lui indica già il deserto e dice sono sicuro che dietro a quella duna non ha senso capisci? quindi avresti dovuto fare i personaggi magari lei seduta stanca ci sta è carina come cosa ma magari lui in piedi che fa qualche passo in avanti per andare a vedere cosa c'è dietro a questa duna ok? questo e la terza vignetta invece va bene è ok e la quarta vignetta anche perfetto ti ringrazio e proseguiamo con i disegni di Artube allora andiamo a vedere le tue inquadrature per quanto riguarda la figura intera ci siamo per quanto riguarda il piano medio anche qui ci siamo quasi però comunque ha più senso perché hai fatto è più vicino al piano medio che non al primo piano quindi te l'accetto questo è un campo lungo questo sarebbe sì è un campo lungo diciamo un campo lungo è una via di mezzo tra un campo lungo e un campo lunghissimo però va bene te l'accetto e anche il primo piano quindi ci siamo con le inquadrature andiamo ad analizzare adesso invece la tua vignetta tu qui mi hai fatto lo sfondo bravo mi hai fatto anche un dinamismo quindi lei che sta guardando la piantina e lui che invece sta si sta praticamente asciugando dal sudore quindi è molto carino anche la vignetta visivamente si vede che c'è del movimento questa è una bella cosa e qui vediamo un po' nella seconda vignetta lui indica indica davanti a sé questa duna insomma io appunto questa vignetta l'avrei girata al contrario insomma non avrei fatto vedere i volti frontali ma magari da dietro o comunque laterale in maniera tale che comunque si in qualche modo il lettore poteva intravederla un po' questa duna per il campo lungo ci siamo e anche per il primo piano ti ringrazio passiamo al disegno di Valentina Nulli allora Valentina vediamo le tue le tue inquadrature nella prima vignetta c'è una figura intera e ci siamo nella seconda vignetta dovrebbe esserci un piano medio ma non ci siamo perché come vedi sembra quasi più vicino a un primo piano nella terza vignetta il campo lungo ci siamo alla grande e nella quarta vignetta hai fatto un primo piano di lui e quindi ci siamo andiamo ad analizzare adesso la tua ioncoma allora io qui avrei fatto sullo sfondo non si capisce molto bene lo sfondo perché tu l'hai fatto hai fatto un'inquadratura molto molto dal basso ok verso l'alto e infatti tutto lo lo sfondo l'orizzonte è molto schiacciato io l'avrei fatto un po' più su in maniera tale da far vedere un po' di più quello che c'è dietro ai personaggi inoltre stai attenta stai attenta Valentina perché questi due personaggi hanno le gambe troppo piccole quindi occhio fai attenzione a questi particolari per quanto riguarda il piano medio mi piace il fatto che lui abbia gli occhi chiusi che faccia insomma la faccia un po' da saccente e che stia comunque per indicare questa ipotetica duna mentre qui il campo lungo è fatto molto bene perché si vede che è molto curato e mi piace è molto carina anche questa quarta vignetta con lei che insomma diventa un cibi e gli fa un po' le facce strane grazie passiamo al disegno di Rikitempe allora Rikitempe vediamo un po' le tue inquadrature qui dovevi farmi una figura intera e diciamo che ci siamo è una via di mezzo tra un piano medio e una figura intera però va bene te l'accetto qui dovevi farmi un piano medio e non ci siamo molto perché hai tirato troppo su hai zoomato un po' troppo l'immagine questo è un campo lungo quindi va benissimo e anche il primo piano devo dire che la terza e la quarta vignetta l'avete azzeccata un po' tutti quanti adesso andiamo ad analizzare un po' il disegno la ioncoma per vedere se funziona tu qui mi hai disegnato lo sfondo quindi con si vede comunque è chiaro anche da questo da questo cactus è chiaro che ci troviamo nel deserto quello che però non hai disegnato è il secondo personaggio perché nel ki bisogna introdurre tutto quello che c'è da introdurre in questo caso ci sono la ragazza non sta parlando da sola sta parlando al suo ragazzo e quindi dovevi inserirmi anche il ragazzo quindi il consiglio che ti do è quello di andare a vedere un po' le lezioni sulla prospettiva perché ti aiuteranno sicuramente a capire come inserire in una vignetta così stretta e lunga anche due personaggi insomma per quanto riguarda la seconda vignetta hai fatto l'indicazione e hai addirittura fatto la freccetta ed è molto carina questa cosa funziona perché nei manga ci sono questi particolari queste etichette che vengono appiccicate sul manga stesso il campo lungo va benissimo che c'è scritto qua non riesco a leggere allargandolo non si riesce a leggere dimmi che cosa c'è scritto qui sul cartello e anche per quanto riguarda il primo piano con lui che comincia a sudare freddo è molto molto carino e va benissimo ti ringrazio e passiamo ai disegni di mister Luke 84 allora andiamo a vedere le tue inquadrature la prima doveva essere una figura intera e l'hai fatta nella seconda dovevi fare un piano medio e il piano medio di lui c'è ok è vero che di lei non c'è ma di lui c'è e voi dovete considerare sempre diciamo il soggetto il protagonista insomma quello che sta parlando per poter in qualche modo definire l'inquadratura quindi per quanto riguarda lui c'è chiaramente questa inquadratura è dall'alto e quindi è chiaro che lei è un pochino più invece un pochino più ristretta il campo lungo ci sta e anche il primo piano quindi per quanto riguarda le inquadrature le hai azzeccate tutte quante andiamo a vedere la tua ioncoma allora qui c'è lei che è comunque sia si vede visibilmente scocciata anche dalla posizione delle mani è lui che sta guardando con lo smartphone insomma un'eventuale piantina vediamo anche uno sfondo dietro si riesce a vedere che si trovano comunque nel deserto qui hai fatto dei particolari davanti quindi ci stiamo alla grande mi piace molto anche il fatto che tu abbia nella seconda vignetta evidenziato un po' i sentimenti le emozioni dei personaggi in modo corretto lui in questa in questa inquadratura è speranzoso lei invece non tanto ha gli occhi in polso chiusi non si vida molto di quello che sta dicendo lui inoltre hai fatto questo braccio che indica anche se la duna non si vede però mi piace molto questa cosa che del braccio che esce fuori che finisce un po' nell'altra vignetta nella prima è molto molto funzionale mi piace anche la terza la terza vignetta anche qui hai fatto un ottimo lavoro e anche qui diciamo il primo piano l'unica cosa che mi sento di dirti è che solitamente insomma la gocciolina di sudore freddo si fa al lato non si fa proprio al centro ti ringrazio e passiamo ai disegni di Giulia Mi allora vediamo la tua ioncoma qui mi hai fatto una figura intera perfetto qui mi hai fatto un piano medio ottimo qui mi hai fatto un campo lungo questa è una via di mezzo tra un campo lungo e un campo lunghissimo ma va bene e qui mi hai fatto un primo piano con le inquadrature ci sei alla grande andiamo a vedere adesso invece se funziona la ioncoma tu qui mi hai fatto lo sfondo ma io l'avrei fatto un pochino più in alto perché avrei te la saresti potuta giocare un po' di più per far vedere per far vedere un po' l'ambientazione avresti potuto in questo modo mettendo l'inquadratura così in basso non si riesce a capire dove loro si trovino inoltre anche nel tuo caso dovevi farmi la presentazione l'introduzione di entrambi i personaggi mentre qui tu mi hai presentato solo lei nella seconda vignetta lui indica indica la duna e anche se la duna non si vede comunque ci può stare nella terza vignetta mi hai fatto questa praticamente dovrebbe essere la duna che lui indicava però da come sono posizionati i personaggi non si riesce a vedere cosa c'è dietro la duna tu mi avresti dovuto posizionare i personaggi magari qui in maniera tale che loro salivano sulla duna in qualche modo e vedevano cosa c'era sotto al di là di questa duna ok questo è un particolare che magari avresti potuto sviluppare meglio e nel primo piano dovevi forse evidenziare un po' di più gli occhi invece tu hai fatto praticamente questi capelli che vanno un po' a coprire il viso però in questo caso nei manga si utilizza più che coprire il viso con i capelli fare tutte striscette verticali che danno l'idea un po' dell'ombrosità ti ringrazio passiamo al disegno di Lorenzo Bagliera allora vediamo un po' la tua ioncoma qui dovevi farmi una figura intera e me l'hai fatta ok diciamo che è una via di mezzo tra una figura intera e un campo medio perché la figura intera doveva essere leggermente più grande però va bene va benissimo te l'accetto qui dovevi farmi un piano medio e l'hai fatto campo lungo e l'hai fatto primo piano e va bene quindi per quanto riguarda le inquadrature ci siamo andiamo a vedere se funziona la tua ioncoma allora in questa prima inquadratura il personaggio principale è quello che parla quindi doveva essere lei in primo piano rispetto a lui ok perché altrimenti così funziona poco diciamo la vignetta quindi avresti dovuto fare un po' invertire un pochino i ruoli con lei che si lamentava e si vedeva visibilmente incavolata e lui magari un po' più dietro che magari si guardava un po' intorno dovevi invertire un po' le cose per quanto riguarda invece lo sfondo ottimo lavoro perché è davvero fatto molto bene molto curato pieno di particolari quindi ottimo lavoro vediamo un po' la seconda vignetta anche qui va molto bene il fatto che lui indichi con la mano la duna anche se non si vede e invece con il volto guarda lei mi piace molto questo crea dinamismo è molto particolare qui nella terza vignetta si vede chiaramente che loro stanno un po' sopra la duna e comunque si vede che qui c'è altro c'è altro deserto in sostanza e anche nell'ultima vignetta insomma lui tutto sudato che appunto dice ok ci siamo persi quindi funziona anche questa ti ringrazio Lorenzo e passiamo ai disegni di Arianna Fisco allora vediamo un po' le tue inquadrature tu dovevi farmi una figura intera qui e me l'hai fatta dovevi farmi un piano medio e me l'hai fatto dovevi farmi un campo lungo e anche qui ci siamo anche qui è una via di mezzo tra un campo lungo e un campo lunghissimo ma va benissimo va bene così e qui dovevi farmi un primo piano e ci siamo perché comunque ce la possiamo giocare un pochettino andiamo a vedere la tua Yonkoma qui lei è visibilmente incavolata hai disegnato anche una sorta di di fumo del polverone che si alza con il vento qui hai disegnato le rocce sullo sfondo hai disegnato tutte queste dune quindi il particolare dell'ambientazione si vede però manca manca lui manca il maschietto avresti dovuto inserirlo da qualche parte magari anche sullo sfondo un po' più piccolino che magari stava indicando appunto quella duna o che stava cercando insomma di capire dove si trovavano i due per quanto riguarda la seconda vignetta mi piace il fatto che hai disegnato appunto questo personaggio in maniera molto molto bambinesca perché comunque rende un po' l'idea della sua ingenuità che dice sta tranquilla non ti preoccupare mi piace il fatto che hai messo la freccettina perché anche questo è un particolare molto carino e hai disegnato anche il sole che sorride anche questo particolare molto divertente qui hai disegnato due rettangoli che sono praticamente rappresentano praticamente i personaggi e questo è un altro particolare che comunque funziona perché ritorna tanto nei manga ci sono un sacco di manga che fanno vedere insomma nel momento della svolta insomma della svolta inaspettata qui ci troviamo al Ten del Kishoten Ketsu e tanti fanno questi personaggi un po' estremamente stilizzati e anche qui mi hai disegnato lui con gli occhi fatti in questo modo quindi è molto carino e qui mi hai disegnato anche un animaletto che sta attendendo di mangiare cioè la forchetta e il coltello in mano e grida cibo che animale è? dimmelo in un commento perché io non riesco proprio a capirlo comunque bel lavoro grazie passiamo ai disegni di Zumia 73 allora vediamo un po' se le inquadrature sono giuste la figura intera nella prima vignetta ci siamo nella seconda il piano medio ci siamo nella terza il campo lungo va benissimo e anche il primo piano quindi le inquadrature le hai fatte tutte molto bene andiamo a vedere il particolare insomma della ioncoma chiaramente il tuo personaggio femminile ha questi capelli estremamente lunghi e ingombranti quindi ci sta che l'inquadratura venga completamente oscurata un po' anche perché ha inserito in maniera molto intelligente anche lui il ragazzo dietro di lei e quindi insomma questa va benissimo ci sta però nonostante tutto ti sei sforzata barra sforzato sei una ragazza se non sbaglio dimmelo in un commento comunque a cercare di mostrare qualche particolare laddove potevi per per far vedere insomma la zona desertica quindi ottimo ottimo lavoro andiamo a vedere nella seconda nella seconda vignetta lui che indica anche qui mi hai fatto lo sfondo quindi comunque hai accentuato una cosa che non si vedeva molto bene di qua quindi ci sta qui avrei fatto diciamo potevi fare anche in qualche modo la mano insomma che indicava perché avrebbe avuto più senso rispetto insomma a questo mozzicone o magari anche se cominciava a intravedersi come è successo anche in altre vignette però così proprio tagliata di netto non mi piace tantissimo il campo lungo è molto molto esplicativo e quindi ci siamo mi piace anche il fatto che hai inserito l'onomatopea del vento il bush famoso e poi lui che strizza l'occhio e dice va bene ci siamo persi e si fa una risata quindi anche questa quarta vignetta va bene ti ringrazio e passiamo al disegno di Tsumie allora vediamo un po' la tua la tua ioncoma allora tu mi hai fatto una figura intera qui e ci siamo alla grande mi hai disegnato un qui dovevi disegnare un piano medio invece tu qui mi hai fatto un campo medio e quindi qui non ci siamo e con il campo lungo va bene e con il primo piano anche qui va bene anche se questo sarebbe più un primissimo piano che non un primo piano perché non hai fatto la faccia per intero ma hai fatto un particolare della faccia infatti qui il protagonista è l'occhio comunque andiamo a vedere adesso la tua ioncoma questo disegno mi piace tantissimo il fatto che lei sia seduta in questo modo e che si stia lamentando è veramente eccezionale e mi piace tantissimo anche lui che guarda lei in piedi un po' distante che fa uno sbuffo davvero molto bella questa vignetta e insomma si riesce a vedere anche il deserto sei riuscita o riuscito perché non riesco a capire se sei maschio o femmina dimmelo in un commento così lo fisso e a inserire un po' tutti gli elementi nel giusto modo perfetto per quanto riguarda invece il piano medio appunto come ti dicevo qui dovevi fare un'inquadratura un po' più ravvicinata però il fatto che tu abbia fatto sempre questo movimento questo dinamismo di lui che indica questa duna ci sta e qui vediamo che loro diciamo guardano da un'altra angolazione questa questa inquadratura secondo me non funziona molto perché tu fai vedere praticamente i personaggi che corrispondono alla stessa alla stessa posizione di qua insomma solo visti da un'altra inquadratura e quindi significa che loro non si sono spostati di una virgola e allora non ha più senso che lui dica nella vignetta precedente sono sicuro che dietro a quella vignetta perché questa frase indica che loro si debbono spostare per andarla a vedere per andare a vedere appunto cosa c'è dietro quella duna ho detto questa vignetta va bene mi sto rimbecillendo cercate di capirmi sono tanti esercizi ci sta che dico castronerie ogni tanto comunque si avresti dovuto magari cambiare posizione o altrimenti non farli vedere proprio e mostrare solo quello che loro insomma in qualche modo stavano avevano intravisto mi piace molto che hai fatto l'onomatopea molto curata anche comunque questa vignetta e anche questo particolare con lei che è incavoratissima è davvero molto molto funzionante ottimo lavoro e passiamo al disegno di Davide Tabolli allora Davide andiamo a vedere le tue inquadrature qui la figura intera ci siamo qui il piano medio ci siamo qui il campo lungo va benissimo e anche il primo piano ottimo andiamo a vedere adesso se funziona la tua ioncoma allora qui tu hai fatto il particolare di lei che è in primo piano rispetto a lui quindi va benissimo va benissimo lei è incavolata con questa posa insomma da ragazza incavolata l'unica cosa che magari avresti dovuto calcolare considerare è il fatto che questa trecciona va ad oscurare lui e magari avresti dovuto farla passare un pochino più in qua avrebbe avuto più senso comunque per quanto riguarda il deserto tu mi hai anche comunque colorato il disegno quindi grazie perché questi sono particolari che apprezzo sempre molto e comunque si vede il deserto si vede anche una piantina rinsecchita qui poi qui abbiamo un'inquadratura nella seconda vignetta un po' troppo statica infatti questa figura frontale non funziona molto perché come vedi il braccio qui si perde un po' avresti dovuto magari farla un po' più a tre quarti come hanno fatto molti dei tuoi colleghi o addirittura vista da dietro in maniera che tu avresti potuto dar modo che lui indicasse questa duna un po' nel miglior modo fai attenzione qui perché hai fatto la spalla un po' buttata così un po' con tipo osso di fuori invece dovrebbe essere un pochino più ecco un pochino più così avrebbe più senso qui mi hai fatto il campo lungo e ci siamo e qui mi hai fatto l'inquadratura di lui che è un pochino spaesato e va bene anche questa ti ringrazio Davide passiamo al disegno di Necky Chan la stalker allora vediamo un po' vediamo un po' la tua yonkoma allora figura intera ok piano medio va benissimo campo lungo sì ci siamo e piano e primo piano anche qui va benissimo allora quindi con le inquadrature le hai prese tutte quante vediamo un po' se funziona la tua yonkoma mi piace molto la posa di questa di questo tuo personaggio di questo tuo oh sì mi piace molto come lo hai caratterizzato molto molto bello come diciamo come i vestiti che gli hai messo addosso però anche qui tu hai disegnato lo sfondo ci siamo alla grande però non mi hai disegnato lui e quindi magari questo è un particolare che potevi fare che ne so qui in prospettiva facendolo un piccolino no quindi magari vatti a vedere anche tu se puoi le lezioni sulla prospettiva e la prossima volta nella prossima yonkoma cerca di inserire più personaggi in un'unica vignetta vediamo qui lui che si dovrebbe stare dovrebbe allora ha praticamente il braccio dietro che si sta toccando i capelli un po' disperato forse è questo il particolare non si riesce a capire molto bene dimmelo in un commento qui sotto vediamo un po' anche in questo caso per quanto riguarda la funzionalità della vignetta avresti dovuto fare in modo che lui la indicasse questa duna perché ricordiamoci che in questa seconda vignetta il protagonista si sta introducendo questa duna quindi in qualche modo il personaggio deve indicarla deve mostrarla deve fare in modo cioè bisogna fare in modo che il lettore capisca che ci sia una duna nella terza vignetta va benissimo e anche nella quarta quindi ti ringrazio Necchi vediamo i disegni di Luca Zerbinati mi dispiace che questa vignetta ti è venuta tutta schiacciata peccato peccato la prossima volta magari farei un pochino più di attenzione forse perché dimmelo in un commento qui sotto Luca forse perché tu hai fatto prima le vignette diciamo tutte separate e poi le hai unite insieme potrebbe essere questo il motivo invece dovresti imparare se è questo il motivo dovresti imparare a farmi le vignette tutte nello stesso foglio non a fare cose separate piccole illustrazioni separate da unire poi successivamente comunque va bene per la figura intera ci siamo per il piano medio ci siamo campo lungo ci siamo e anche il primo piano quindi per le inquadrature vanno vanno molto vanno molto bene vediamo un po' se funziona la tua yonkoma allora le dune qui me le hai fatte si vede chiaramente insomma questo particolare mi piace il fatto che lui abbia una una specie di mappa sulla mano e quindi che si stia un po' orientando però in questo caso anche dico a te quello che insomma ho detto ad altri ovvero il personaggio principale di questa di questa vignetta è lei che sta parlando quindi era lei che doveva essere messa in primo piano o comunque sullo stesso piano di lui nella seconda non capisco perché tu abbia fatto questa zona tutta nera onestamente questo scrivimi in un commento perché hai voluto fare questa zona nera però secondo me è poco funzionale perché invece in questa vignetta dovevi mostrare un accenno di duna o comunque anche se non mostri la duna dovevi far vedere lui che la indicava insomma dovevi in qualche modo indirizzare il lettore alla duna e il campo lungo va bene e anche il primo piano lui è arrossato qui è un po' un po' come dire insomma si vergogna per la figuraccia che ha fatto ti ringrazio Luca e passiamo al disegno di Daniele Re allora Daniele vediamo un po' di analizzare le tue le tue vignette qui mi dovevi fare una figura intera e ci siamo piano medio ci siamo campo lungo ci siamo primo piano ci siamo ci siamo sto cominciando a delirare è normale fa caldo e siamo praticamente a una diciotta siamo al diciottesimo esercizio è normale che cominci a delirare allora vediamo un po' la tua ioncoma tu qui mi hai disegnato degli accenni dei particolari che rimandano comunque al deserto quindi va benissimo mi piace molto come hai caratterizzato questa nuvola fa molto Naruto molto molto carina comunque e anche il tuo personaggio che è un personaggio bizzarro perché ha tutti questi mille mila occhi addosso però comunque sia funziona e anche in questo caso però secondo me doveva essere la ragazza doveva venire in primo piano rispetto a lui e lui invece doveva fare mi piace molto che hai fatto questo dinamismo lui che insomma sta guardando sta cercando di capire dove si trovano però avresti dovuto farlo sullo sfondo era un particolare che non era così necessario mostrare vediamo un po' nella seconda vignetta lui che indica davanti e con lo sguardo invece cerca lei quindi c'è questo dinamismo molto molto carino e qui praticamente mi hai disegnato i personaggi che si trovano davanti alla duna e questo forse è un particolare che io avrei fatto diversamente perché chiaramente loro dovevano starci sopra la duna dovevano stare sopra la duna per poter vedere cosa c'era al di là della duna ok e poi qui invece i suoi mille mila occhi che sono praticamente atterriti nel vedere che c'è altro deserto ti ringrazio Daniele passiamo ai disegni di Mimi allora vediamo vediamo la tua ioncoma qui mi dovevi fare una figura intera e me l'hai fatta ci siamo qui un piano medio di questo personaggio che è estremamente estroverso ci siamo qui mi hai fatto un campo lungo è una via di mezzo tra un campo lungo e un campo lunghissimo ma ci siamo e qui dovevi farmi un primo piano diciamo che grosso modo ci siamo anche qui grosso modo ci siamo allora andiamo ad analizzare la tua ioncoma ok e qui i personaggi me li hai fatti praticamente sullo stesso livello e quindi ci sta comunque lei è in primo piano rispetto a lui anche se è di qualche centimetro e si capisce l'unica cosa che mi sento di dirti è che questa camminata quella quella di lei soprattutto è un po' troppo meccanica il fatto che lui abbia un volto alterrito già da subito invece è molto carino ed è molto carina anche questa seconda vignetta in cui lui fa il fenomeno molto molto divertente questa cosa qui mi hai fatto il sole di soliter però va bene qui ci siamo questo mega gocciolone molto molto carino mi hai fatto anche i tre puntini di sospensione ci siamo ci siamo è molto divertente questa questa vignetta e alla fine mi hai fatto anche l'ascia di soliter quindi mi sembra di aver capito che ti piace soliter con lui che comunque fa sempre il fenomeno e lei invece atterrita incavolata mi ricorda molto appunto la dinamica che c'è sempre spesso tra maka e sol comunque molto molto divertente la tua la tua ioncoma ti ringrazio passiamo ai disegni di Grecian e di C allora Grecian vediamo un po' tu mi dovevi fare una figura intera e ci siamo qui un piano medio e ci siamo campo lungo ci siamo e anche il primo piano quindi perfetto vediamo un po' di analizzare la tua ioncoma qui mi hai posizionato i personaggi in maniera molto intelligente secondo me perché anche se lei si trova dietro al ragazzo comunque sia in effetti si vedono bene entrambi e funziona questa cosa che lui sta seduto e lei sta in piedi perché in questo modo ti sei potuta giocare anche la carta dello sfondo dell'ambiente del paesaggio che chiaramente si vede appunto essere desertico ottimo lavoro per quanto riguarda questa inquadratura la seconda questa vignetta è molto divertente lui anche in questo caso fa il fenomeno come nella vignetta precedente molto sicuro di sé e indica con la mano questa duna che anche se non si vede comunque sia viene presentata e qui invece abbiamo questa vignetta questo ballon con l'interno la faccia di lei molto molto stranita che è tipica dei manga moderni molto bene qui mi ha fatto il campo lungo con questa distesa di niente e poi il primo piano secondo me potevi non disegnare questo nero perché sullo sfondo perché non serviva e in questo modo avresti potuto fare un po' più di contrasto con i capelli che già sono neri di suo comunque ti ringrazio e siamo giunti al termine con il disegno di Lorenzo di Benedetto vediamo un po' la tua ioncoma come è avvenuta allora Lorenzo qui mi hai fatto una figura intera e ci siamo mi hai fatto un piano medio non proprio non proprio è una via di mezzo tra un piano americano e un piano medio però va bene diciamo che te l'accetto qui mi hai fatto un campo lungo va bene e qui mi hai fatto un primo piano e va bene andiamo ad analizzare la tua vignetta la prima cosa che ti dico Lorenzo è che tu curi tantissimo le vignette e questa è una cosa molto positiva guardate che cura di particolari ha veramente la riempita la riempita di cose ed è molto molto bello questo particolare ti sei un po' complicato la vita nel disegnare loro a cavallo perché in effetti la parte bassa insomma di entrambi i personaggi non è venuta molto molto bene i cavalli non sono molto definiti e soprattutto con le proporzioni non ci siamo le proporzioni di un cavallo rispetto insomma al personaggio poi magari questo non è un cavallo è un asino però è uguale è troppo piccolino vedi è troppo piccolino rispetto insomma al personaggio stesso e inoltre non ci siamo con con la posa proprio perché non hai fatto praticamente il bacino troppo in alto rispetto rispetto appunto a dove dovrebbe essere però mi piace molto il fatto che comunque sia c'è questo c'è questo dinamismo mi piace anche la seconda vignetta con lui che invece di indicare la duna la presenta attraverso la piantina un altro aspetto interessante ah sono dei cammelli non so sono dei cammelli perché qui vedo le vedo le gobbe quindi va bene peggio ancora perché il cammello è molto alto e quindi insomma ti sei un po' complicata la vita con questi animali quello che non capisco è questo particolare questo non lo capisco che cos'è questa cosa qua sembra un muro qui non riesco neanche a leggere big big canide non lo so dimmi che cosa volevi fare qui perché non riesco proprio a capirlo se questo è un diciamo un orizzonte è un po' troppo piatto per come lo hai disegnato e per quanto riguarda il primo piano invece ci siamo sei riuscita a inserire anche lei incavolata dietro bene ragazzi ce l'abbiamo fatta abbiamo finito questa prima tranche di esercizi vi ricordo che usciranno altri tre video su questo esercizio perché siete in tanti siete 86 e quindi insomma c'è bisogno di un po' di tempo il prossimo esercizio lo troverete domenica prossima quindi vi rimando a domenica prossima per l'esercizio numero 4 e durante la settimana per un nuovo video di marionetta matta un bacio a tutti i matti del mondo ma